In questo video ci occuperemo del pensiero politico di due filosofi inglesi del Seicento, e cioè di Thomas Hobbes e di John Locke. Questi filosofi vengono presentati nei manuali di storia della filosofia, rispettivamente come Hobbes teorico dell'assolutismo e Locke come ideologo della borghesia liberale. Per intendere queste definizioni naturalmente dobbiamo cercare di legare il loro pensiero politico alle vicende storiche che caratterizzarono il periodo che va grossomodo dagli anni 20 del Seicento fino al 1688-89. Questo periodo fu caratterizzato dallo scontro tra il re e dunque tra la nobiltà feudale, l'aristocrazia di antica data che generalmente si schierava con il re e il Parlamento inglese che rappresentava gli interessi della borghesia emergente. Quando parliamo di borghesia emergente intendiamo quel ceto di mercanti, di banchieri, di uomini di affari, di imprenditori il quale si era arricchito fin dai tempi della regina Elisabetta si era arricchito con i traffici intercontinentali con il commercio coloniale con le manifatture tessili e insomma con le attività bancarie le attività finanziarie che avevano il loro centro soprattutto nel porto di Londra e nei quartieri della City quindi il cuore pulsante della finanza e del mondo degli affari dell'Inghilterra di quel tempo. Quindi questo contrasto tra l'aristocrazia feudale che si riconosceva nel re da una parte e il ceto mercantile emergente dette vita attraverso tutta una serie di lotti attraverso una guerra civile che si protrasse in Inghilterra in grosso modo dagli anni 40 fino agli anni 60 e che dette origine alla dittatura di Oliver Cromwell questo scontro, dicevo, darà luogo poi con la gloriosa rivoluzione degli anni 1688-89 a un nuovo modello di Stato e cioè una forma di governo in cui il potere del re verrà limitato da una Costituzione la quale Costituzione tenterà a difendere i diritti della borghesia che era uscita vittoriosa dallo scontro con la nobiltà feudale che era riuscita anche ad emarginare quelle frange democratiche che avevano ad un certo punto della guerra civile minacciato gli interessi di questo nuovo ceto emergente bene andiamo a vedere adesso in che senso Hobbes e Locke rappresentano i teorici di questi due opposti schieramenti che poi troveranno anche loro verso la fine del secolo modo di accordarsi e quindi di convivere in questo nuovo assetto allora prendiamo in considerazione prima di tutto il pensiero politico di Hobbes Hobbes cerca di giustificare razionalmente l'assolutismo che cosa significa significa che il potere assoluto del re cioè la pretesa che i re avevano in questo periodo di esercitare un potere a prescindere da qualsiasi limite bene questa pretesa di esercitare un potere assoluto veniva fatta derivare direttamente da Dio quindi il ragionamento tradizionale con cui si giustificava il potere assoluto dei re era che questo potere era stato conferito al re da Dio e quindi il re era soggetto soltanto a Dio e quindi il potere del re non poteva essere limitato dagli uomini il re dunque non aveva sopra di sé nessuna autorità umana ma soltanto l'autorità divina a questo a questo tipo a questo tipo di argomentazione teologica Hobbes cerca di sostituire per così dire un'argomentazione filosofica cioè Hobbes intende giustificare il potere assoluto del re non ricorrendo a un argomento di natura teologica non ricorrendo a Dio tra l'altro Hobbes venne accusato anche di ateismo ma ricorrendo alla ragione filosofica potremmo dire cioè ricorrendo ad una argomentazione razionale che non tirava in ballo una presunta investitura di Dio e qual è il ragionamento di Hobbes Hobbes dice una cosa molto semplice intanto parte dalla supposizione di uno stato di natura cioè Hobbes immagina uno stato di natura nel quale gli uomini si trovano prima che venga imposta agli uomini la legge dello stato ecco questa ipotesi dello stato di natura è una semplice ipotesi di lavoro naturalmente Hobbes non pensava che l'umanità fosse veramente vissuta in uno stato di natura e poi attraverso un patto si fosse usciti da questo stato di natura per entrare nello stato civile ecco lo stato di natura questa ipotesi di lavoro serve ad Hobbes per giustificare il passo successivo che è appunto di spiegare come si sia costituito il potere assoluto del sovrano allora nello stato di natura gli uomini vivono in perfetta libertà non hanno sopra di loro una legge positiva che sono tenuti a rispettare per non incorrere nelle sanzioni sostanzialmente nello stato di natura ogni uomo è libero di fare tutto quello che gli pare e piace quindi non vi sono non vi è l'autorità dello stato perché lo stato ancora non esiste non vi è polizia non vi è la legge non vi sono i magistrati ma ci sono soltanto gli uomini i singoli uomini che vivono appunto in uno stato diciamo così di natura in uno stato naturale dove non ci sono le istituzioni e che seguono i loro istinti e siccome i loro istinti sono dice Hobbes degli istinti egoistici quindi Hobbes parte dall'idea che l'uomo è sostanzialmente egoista è un essere egoista è un essere egoista che cerca in tutte le sue azioni di di fare sempre comunque il proprio tornaconto di perseguire sempre comunque il proprio interesse e se può non si farà nessuno scrupolo di prevaricare sugli altri quindi lo stato di natura è una condizione diciamo così in cui prevale la legge più forte essendo quindi gli uomini egoisti che cosa fanno? si fanno la guerra tra di loro ognuno cerca di avere il sopravvento sull'altro lo stato di natura quindi è uno stato di massima insicurezza ebbene gli uomini capiscono che in questa condizione di perenne insicurezza conviene loro rinunciare alla libertà che hanno su tutto conviene loro quindi porre per così dire un freno al loro egoismo e sottomettersi sottomettersi ad una autorità superiore ecco che questo momento viene denominato da Hobbes come il momento del patto tra gli uomini gli uomini quindi capiscono che se non vogliono andare incontro all'autodistruzione autodistruzione che si rende quasi necessaria in questa condizione in questo stato di guerra di tutti contro tutti devono venire a patti ecco devono mettersi d'accordo devono mettersi d'accordo e lo fanno cedendo tutta la loro libertà ad un sovrano ad un'unica persona o a un'assemblea dice Hobbes che da questo momento in poi avrà un potere assoluto su tutta la comunità civile quindi questo trasferimento della libertà di ognuno al sovrano costituisce per Hobbes un passaggio indispensabile se gli uomini non vogliono correre il rischio di autodistruggersi quindi si esce dallo stato di natura con un patto stretto tra gli uomini che capiscono la necessità di sottomettersi ad un unico sovrano il quale sovrano però non è vincolato dal patto perché questo sovrano non fa altro che ricevere dagli uomini il potere di governarli potremmo dire da questo momento è istituito lo stato lo stato quindi è rappresentato dal sovrano che esercita un potere assoluto e quindi esercita sia il potere legislativo di fare le leggi e di imporle agli uomini sia il potere esecutivo di rendere esecutive queste leggi e di farle rispettare con la forza militare e sia il potere giudiziario il sovrano è anche giudice quindi ha anche il compito di punire coloro che contravvengono alle leggi che egli stesso ha dato alla comunità dei sudditi ora ci potremmo chiedere ma perché gli uomini hanno rinunciato alla loro libertà per sottomettersi magari all'arbitri di un sovrano il quale avendo questo enorme potere può benissimo renderli schiavi e farli precipitare magari in una condizione peggiore di quella in cui gli uomini si trovavano nello stato di natura ebbene Hobbes su questo punto è molto chiaro e gli dice nessuna condizione è peggiore di quella dello stato di natura e soltanto uno stato assoluto cioè uno stato in cui il sovrano eserciti un potere assoluto può garantire alla società civile ordine e pace questa è la profonda persuasione di Hobbes e cioè ripeto soltanto un sovrano assoluto che eserciti il suo potere senza alcuna limitazione garantirà la pace e l'ordine cioè impedirà che si formino all'interno della comunità umana dei gruppi in continua guerra tra di loro e qui è chiara la l'influenza che sul pensiero di Hobbes ebbero le vicende che ricordavamo prima della guerra civile quindi per Hobbes la guerra civile che imperversò in Inghilterra negli anni 40 e 60 del XVII secolo evidentemente fu un'esperienza traumatica lo stesso filosofo dovette andare in volontario esilio in Francia temendo di poter essere perseguitato dai dai fautori di Cromwell e quindi non c'è da stupirsi se questa esperienza traumatica della guerra civile inducesse Hobbes a pensare che l'assolutismo fosse l'unico rimedio a questo male estremo dice Norberto Bobbio in un suo scritto su Hobbes che Hobbes appartiene a quella categoria di pensatori politici i quali diciamo così ragionano sulla base della della coppia di opposti ordini anarchia piuttosto che della coppia oppressione libertà cioè questo che cosa vuol dire vuol dire che Hobbes preme meno la libertà e più l'ordine potremmo dire che è un filosofo dell'ordine dice è preferibile rinunciare alla libertà piuttosto che all'ordine quindi Hobbes è un pensatore che è continuamente assillato da questa paura del disordine della guerra civile che necessariamente avviene quando vi è uno scontro tra fazioni che la pensano diversamente su alcune questioni e che sono portatrici di interessi diversi quindi questa è la ragione per cui Hobbes sostiene con questo ragionamento la necessità che il governo sia esercitato da un sovrano che unisca nelle sue mani sia il potere legislativo sia il potere esecutivo sia il potere giudiziario questa è la sua profonda persuasione quindi detto in termini proprio estremamente semplici Hobbes è persuaso che ci vuole sostanzialmente un dittatore perché il sovrano di Hobbes non è altro che un dittatore per assicurare alla comunità umana ordine e pace a presto